Noi stiamo lavorando per tagliare le tasse, non solo ai dipendenti e ai pensionati, col taglio dell'IRPEF, ma anche alle partite IVA e agli autonomi, col taglio dell'IRAP, e a trovare soldi per tagliare le tasse dello Stato sulle bollette di luce e gas. Poi, fra intendimenti degli altri, mi interessano poco. Noi stiamo al lavoro per tagliare IRAP e bollette di luce e gas. Una parte dei soldi su cui noi vogliamo investire per tagliare bollette di luce e gas dovrà arrivare dal taglio degli sprechi e del furbetti d'arredito. E però come la interpreta questo scena di Berlusconi? Non interpreto il pensiero altrui. No, vabbè, è una chiacchierata. No, no, non interpreto, cerco di tagliare le tasse. Ma rispetto al Super Green Pass e alla scelta dei governatori? Siamo in perfetta sintonia con i governatori. I governatori della Lega sono uniti. Poi, degli altri, non so, chiedete agli altri. Perché dicono qualcosa di diverso. Noi stiamo lavorando per le aperture, per evitare le chiusure, per evitare paure, per evitare che ai bambini venga esteso l'utilizzo del Green Pass, perché con i bambini bisogna andare assolutamente cauti, e quindi per garantire il lavoro e salute. Quindi le zone colorate? Le zone colorate già ci sono. Se non vaccinati appoggiano il Super Green Pass. Vediamo cosa propone il governo. Lei che ne pensa? Vediamo cosa propone il governo. Io sono impegnato sul taglio delle tasse. Il resto lo lascio a voi. Buon lavoro.